Pink Floyd Festival al Palalido di Valdagno, sabato 25 ottobre. Apertura mostre conferenze ore 16, alle ore 21 grandioso concerto con i Wit Matrix e Durga McBroom, corista originale dei Pink Floyd. Per i biglietti e info alla pagina Facebook Pink Floyd Festival. Restiamo a Valdagno dove il Palalido ospiterà sabato prossimo dalle 16 il Pink Floyd Festival, una full immersion non solo musicale nel psichedelico mondo dello storico gruppo. Ci sarà Durea McBroom Hudson, storica corista della band, a raccontare aneddoti e curiosità del gruppo di Dave Gilmore. Si potranno poi vedere libri, dischi, litografie, chitarre suonate dal gruppo in 50 anni di attività, oltre a svariati gadget collegati alla rock band. Il piatto forte alle 21.15 con il concerto dei Wit Matrix, una delle cover band più accreditate e fedeli a riprodurre il sound e le atmosfere uniche dei Pink, accompagnati proprio da Durea McBroom Hudson e da Sasha Torrisi, ex cantante dei Timoria, dotato di voce sorprendentemente simile a quella di Sid Barrett. I biglietti del concerto si trovano sul sito Live Ticket.